Sindaco, un tema molto importante, il dopo di noi. Qual è la situazione nel comune di Fogli? Intanto la nostra città da tanto tempo, anche grazie al contributo dell'onorevole De Meo, ha avuto al cuore la parte di comunità più debole ed è bellissima la sensibilità dimostrata dove una parte della comunità è di aiuto e di supporto alla comunità più bisognosa. Noi abbiamo due grossi centri, il Magica Pulla e l'Allegra Brigata, dove continuamente vengono accolti in una famiglia questi nostri ragazzi o queste nostre persone che hanno necessità di essere accurati. e naturalmente il dopo di noi è proprio un atto di grande sensibilità di tutte le comunità per raccogliere, per continuare a dare una famiglia a chi purtroppo a un certo punto della vita non avrà più una famiglia perché i genitori, i fratelli o sorelle alla fine vengono meno. Quindi la sensibilità dimostrata e dalle amministrazioni ma anche da tutte le comunità del Sion Prenciorio credo che sia davvero un atto di grande sensibilità e un dovere nei confronti di chi è stato meno fortunato nella vita.